E anche su questo chi sceglie la Lega e il centrodestra fa una scelta di vita. Per qualcuno a sinistra ci sono alcune droghe lecite che si possono legalizzare. Per me ogni droga è merda, per me la droga è morte. Non ci sono droghe buone, non ci sono droghe simpatiche, non ci sono droghe che fanno bene. Anzi, nel codice della strada, e lo dico ai giornalisti perché questa è una notizia di mezz'ora fa, che arriverà finalmente in aula del Parlamento il primo di marzo, ho previsto e l'ho scelto da ministro e da papà il ritiro della patente per chi viene trovato alla guida drogato. Perché drogarsi è da coglioni, mettersi alla guida da drogati è da doppi coglioni. Non c'è droga buona, non c'è droga permessa. Chi spaccia droga vende morte, chi spaccia droga uccide il cuore e l'anima di una generazione e i nostri giovani in Sardegna come in Italia sono il futuro.